Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti alla Fiera di Montichiari. Come Federazione Nazionale Acti Italia siamo qui per presentare la nostra federazione. Perché essere club? Perché essere federazione? Essere club è un'iniziativa importantissima per tutti coloro che amano il turismo itinerante. Il turismo, il viaggiare fai da te, è interessante, è molto bello. Interessante è farlo anche con i club, perché insieme è bello. Il club si nasce e c'è una garanzia, c'è un responsabile, c'è un senso di appartenenza, c'è qualcosa di molto importante che aiuta a tutti coloro che amano vivere all'aria aperta. La Federazione Nazionale non fa nient'altro che accogliere questi club importantissimi per il nostro sistema del turismo e in questo senso propone anche la bandiera gialla, che è un evento importantissimo delle aree soste, che io chiamo, permettetemi, le aree soste a quattro stella. Garanzia, sicurezza e importanza di quelli che possono essere i servizi offerti. Camper Solidale Mantova, come tanti altri club italiani, svolge questa attività, questa mission, a sostegno di tutti coloro che amano la vita all'aria aperta. Acti Italia li raccoglie, li collabora, li aiuta nelle loro funzioni, sia per quanto riguarda le legislative, per quanto riguarda quelle amministrative. Aderite e insieme è bello!